Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti che hanno portato alla tragica sparatoria di venerdì in questura. Emergono dalle testimonianze nuovi particolari che sembrano contraddire parzialmente le ricostruzioni fin qui note. A cominciare dalla presenza di una misteriosa ragazza segnalata da una testimone a bordo del motorino rubato in mattinata da Alejandro Meran nella zona del mercato coperto. Lo riferisce oggi il quotidiano Il Gazzettino. La testimone già sentita dalla procura ha raccontato di aver visto a bordo dello scooter anche una giovane donna assieme al dominicano 29enne. I due a un certo punto avrebbero litigato e la ragazza sarebbe poi scesa dal motorino. Ora gli inquirenti la stanno cercando per interrogarla e aggiungere un altro tassello al quadro delle motivazioni che hanno spinto Alejandro Meran nel pomeriggio dello stesso venerdì a uccidere i due poliziotti in questura. Lo stesso assassino nella visita psichiatrica avrebbe ammesso l'uso di droghe e avrebbe insistito sul fatto di aver sentito voci che gli ordinavano di uccidere, versione iniziale fornita anche dalla madre Betania e che gli specialisti hanno ora il compito di verificare. Intanto anche oggi la polizia ha effettuato nuovi rilievi all'esterno della questura. Gli agenti hanno preso le misure di parte del muro del palazzo di fronte dove sul marciapiede era stata gettata da Alejandro Meran una delle due pistole.